Ragazzi, che piacere rivedervi a un altro appuntamento con... Oggi per voi ho un grande personaggio. Vi presento... Il marinario. Salve. Sono il marinario. Ho marinato per più di vent'anni, possiamo dire. E' un'esperienza da leoni. Possiamo dire che la nave con me diventa una cosa sola. Insieme. Possiamo dire... Che... Però mio Marco, l'esperienza serve. Certo. Tu hai esperienza con i video, io ho esperienza con... My Life. Ehm, avevo pensato di... Avevo sentito che c'è un colette. Quella con i cazzi. No. Beh, dobbiamo fare un video dove noi facciamo fin di essere dei marinai o dei pecorai, quindi... dobbiamo fare fin di essere dei messi nei superi. e faremo vedere a tutti... Noi che balliamo... Ehm... Ehm... Adesso dobbiamo andare a scegliere il vestito per me. Quindi... Ehm... Ehm... Queste... Queste pelli possono sembrare le belle d'apparenza e lo sono, ma fanno... Non sa, di morte. Ehm... 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 Che devo scegliere quelle buone. Ci può aiutare a scegliere una bella buona per me. Lo so adesso? No, tirato Perché mi sento sbagliato? Perché io no Magari mi faccio che io ce l'ho così E poi mi metto la giacchetta Noi balleremo davanti a persone che incontriamo su centro letto Ma noi siamo sicuri che la gente ovviamente Non rimarrà a vedere Noi balleremo perché la gente sappiamo che cerca figa Siccome la piga non cerca persone che ballano E i maschi non cerca gente che ballano Balleremo da soli Giusto? Mio fratello ha proprio ragione signore e signori Mio fratello ha proprio ragione A meno che ci abbassiamo i pantaloni Ci abbassiamo le mutande Piliamo il nostro grosso cazzo E ci facciamo una sega Oh sì, la sega rimangono le persone Sì, anche i maschi rimangono Io sì Quindi vi porgiamo un saluto E fino al prossimo video Che è uscita nel 2014 Un saluto Ciao Ciao Aaaaaaaaaaaaaaa